Il Partito Democratico è fermamente contro atteggiamenti e azioni che rischiano di degenerare in avventure politiche confuse, e in percorsi senza prospettive. Lo scrive il segretario del PD, Nicola Zingaretti, in una nota. Non sarebbe giusto, anche perché c'è da difendere un patrimonio di realizzazioni e indirizzi politici conseguiti, insieme a tutta la maggioranza che sostiene il governo, in questi mesi da settimane, ricorda il segretario Deng, abbiamo chiesto con grande nettezza e chiediamo, tanto più ora, un rilancio dell'azione di governo, del quale il progetto di recovery fund è parte fondamentale ma non l'unico. È giunto il tempo di essere coerenti. Sin dal primo giorno abbiamo ribadito che il nostro contributo nell'esecutivo è legato esclusivamente all'obiettivo di cambiare e migliorare il paese. Oggi il confronto sul Next Generation EU ha fatto un altro passo in avanti. Il nostro unico assielo è l'interesse dell'Italia, per questo non va sprecato neppure un euro delle risorse, in parte a fondo perduto, che abbiamo a disposizione. È essenziale, scrive Zingaretti, che si chiarisca un cronoprogramma preciso per l'adozione del piano, i tempi del confronto parlamentare e il coinvolgimento del paese. Insieme a questo vanno decise regole per la sua attuazione, che rendano il progetto credibile e finalizzato alle scelte strategiche che abbiamo indicato insieme all'Europa quindi sottolinea i leader più di, nel nostro documento che costituisce il contributo alla discussione in corso, indichiamo i temi prioritari da mettere al centro della rinascita italiana in discontinuità rispetto al vecchio modello di sviluppo, segnato da decenni da troppe ingiustizie e da una mancanza di crescita non. Vogliamo restaurare l'Italia che c'era prima della pandemia. Chiarisce Zingaretti, vogliamo costruirne una nuova, che dia speranze e un futuro alle giovani generazioni. Spendere e spendere bene significa concentrare le risorse, privilegiare gli investimenti, trasformarli il più rapidamente possibile in opere concrete adeguando e rafforzando la pubblica amministrazione, coordinare l'azione dei vari livelli istituzionali per evitare conflitti, confusioni e perdite di tempo. Con l'incontro di oggi, conclude, il PD ha voluto offrire un primo contributo, ma insieme ai gruppi parlamentari da gennaio avvieremo una campagna di iniziative rivolte al Paese e alle forze sociali per discutere e confrontarci.